Abbiamo avuto un certo rapporto di amicizia oltre quello di colleghi di lavoro, parlare di lui è anche semplice per me perché di ricordi ce ne sono tanti, abbiamo vinto, abbiamo scherzato, fuori dal calo un po' e quindi tante cose belle. È una manifestazione del genere, 60.000 persone accogliere un giocatore, penso che non si è mai esistito una roba del genere, però questa è anche la grandezza del napoletano perché in quel momento ha abbracciato veramente la possibilità di creare un discorso che poi alla fine si è anche coronato con delle vittorie strepitose, e quindi la gente indubbiamente è rimasta incantata, innamorata di questo personaggio. Ho visto la domenica per la gente era una tutta novità, però noi durante il giorno era una cosa di tutti i giorni perché lì c'era da incantarsi, ogni giorno te ne faceva vedere qualcuna diversa e quindi per noi diciamo che sotto certi aspetti ormai era diventata una cosa normalissima, invece la gente lì andava in delirio perché a vedere quelle scene così, quei palleggi, quelle giocate deliziose, indubbiamente chi è che non può appassionarsi o andare in delirio per una giocata sola. Ecco gli altri, lui faceva la sua parte, diciamo che erano gli altri che si preoccupavano e quindi lo scrutavano dalla testa ai piedi, chiaramente si trovavano di fronte a un fenomeno e quindi vederselo per un attimo prima di uscire, è un conto che te lo vedi correre per il campo, vedi le prudezze, le genialità, però vederlo così ti soffermo perché dici ma vediamo questa cosa c'ha di diversa, c'è alcuni di loro, li vedevi proprio che si incantavano e guardavano questo personaggio in tutte le sue movenze, quindi era bello anche lì perché vedevi proprio la curiosità degli stessi atleti avversari. Lui aveva una potenza esplosiva e incredibile perché saltava gli avversari come birilli con una certa facilità e poi nello stesso tempo anche se cascava era una molla che era una prontezza, una forza e si rimetteva subito su, insomma partite che lo scaraventavano per terra e lui rotolando si alzava e continuava ancora, quindi delle cose, una forza incredibile. Sì, un giorno in Derebio c'è stato perché una volta ho preso un colpo alla testa in una partita e lui è rimasto qui tutta la notte e è andato via al mattino, quindi sono cose che pensano dimostrazioni di affetto, di amicizie che vanno oltre, oltre qualsiasi cosa, quindi penso che sia stata la dimostrazione migliore. Grazie.